Claudio Guerriero ecco il terzo mandato come si dice qui anche a Viro nel Lazio Sidero di nuovo Sì, siamo al terzo mandato i problemi restano quindi tocca risolverli sono contento, ringrazio tutti la popolazione chi mi ha dato il voto sarò sempre e saremo l'amministrazione vicina ai cittadini il sindaco di tutti a prevarso la ragione contro l'arroganza di alcuni alcuni candidati nelle altre liste l'arroganza non paga paga la ragione paga il servizio che le amministrazioni e la mia e la mia personale come lavoro si applicano al paese e ai cittadini saranno altri cinque anni duri altri cinque anni con tanti problemi come tutti gli altri comuni quindi tocca lavorare rimboccarsi le maniche che qui serve gente che lavora che si rimboccano le maniche e si mettano a disposizione dei cittadini ecco il sindaco i prossimi vegni futuri per Pirono e Lazio lavori lavoretti quali saranno? di vegni di progetti già qualcuno finanziato altro in fase di finanziamento quindi tocca dobbiamo sfruttare le nostre bellezze naturali il borgo come dico sempre non abbiamo fabbriche abbiamo la natura abbiamo il borgo e dobbiamo sfruttare questa situazione col turismo quindi l'impegno già tanto è stato fatto ma tanto altro faremo ancora